La farmacia, il supermercato, il cinematografo, le farmacie in tutte le parti d'Italia, dobbiamo portarci quali oggetti alle nuove scuole, ma non sarebbe molto più serio che noi abbiamo una nuova prospettiva di occupazione dei suoi, su una nuova cementificazione e realizzare che poi non abbiamo i soldi per l'apportamento. Qualche città ha cominciato a fare retromarcia che riguarda il Parlamento, con quali strumenti e con quali sono solo quelle che possono fare investimenti, investimenti aderivano e non li blocchiamo, ma comunque discutiamo la distribuzione o ne facciamo via. Dovrà decidere come risolvere il problema. Io so, perché oggi come oggi il sistema sportivo, andiamo a individuare le fonti di reddito per mantenere un sistema sportivo privata, possa risolvere i problemi di natura sociale, ma quale deve investire? Se queste investimenti abbiamo, questo è il problema nostro, il calcio, e io sono l'ultimo a dire che è un po' di rosa di prima seduta. Grazie.